Si chiude definitivamente il capitolo dedicato alla vicenda Punta Perotti di Bari. La Corte di Strasburgo ha respinto il ricorso presentato dal governo italiano contro la sentenza del 10 maggio del 2012 con la quale è stata decisa l'entità del risarcimento per danni materiali pari a 49 milioni di euro che l'Italia dovrebbe corrispondere alle tre imprese costruttrici del complesso residenziale. La decisione è stata comunicata dallo stesso governo italiano. Per il governo, e riportato dal blog di Marina Castellaneta, professore associato di diritto internazionale nella Facoltà di Giurisprudenza di Bari, la quantificazione dell'indennizzo non era in linea con la sentenza di merito del 20 gennaio 2009 che aveva constatato la violazione della Convenzione europea, incluso il diritto di proprietà, conteneva errori di valutazione nel calcolo del risarcimento danni materiali e contrasti con la precedente giurisprudenza. Una posizione evidentemente non condivisa dalla Grande Camera, il collegio di cinque giudici al quale spetta verificare se la controversia solleva un problema importante sull'interpretazione o applicazione della Convenzione o un problema importante di rilevanza generale ha escluso la fondatezza del ricorso. Adesso al governo non resta che pagare la somma decisa da Strasburgo e di seguire la sentenza della Corte europea.